Ciao, benvenuti sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Oggi è venerdì, è il giorno in cui solitamente carichiamo un video inregistrata. Oggi però ho deciso di farlo in diretta così per vedere direttamente se vi piace. Quello che vogliamo fare oggi è cambiare il puntatore del mouse. Mi aveste chiesto infinite volte se è possibile cambiare il puntatore del mouse e oggi vediamo come fare. Passo subito alla schermata di lavoro. Eccomi qua, rimpicciolisco lo schermo e come vedete io ho già cambiato il puntatore del mouse. Per cui oggi vogliamo arrivare ad avere questo risultato. Solitamente mettere questo alone sotto il mouse, questo alone giallo che serve per renderlo più visibile, non è così semplice. Generalmente è una opzione dei programmi di registrazione, cioè il programma che uso per registrare in alcune situazioni ha la facoltà di infilare sotto la freccia del mouse questo alone giallo per dar modo a chi segue la lezione e il video di vederlo meglio. Però molti di voi mi avete chiesto di farlo ugualmente. Ok, quindi tolti i programmi per i tutorial per registrazione, non trovavo altro, c'era un programma gratuito, un programma a pagamento che permetteva di fare queste cose, ma di gratuito e di valido non mi riusciva di trovare niente. Però all'ennesima domanda che mi avete fatto, ho deciso che bisognava trovare una soluzione. Quindi vediamo che cosa abbiamo a disposizione e come possiamo gratuitamente personalizzare il nostro mouse. Innanzitutto andiamo nel pannello di controllo, quindi vado nel menu di avvio e vado sull'ingranaggio per andare nelle impostazioni, quindi raggiungere il pannello di controllo del nostro computer per vedere quali opzioni abbiamo già a disposizione sul nostro computer, sul nostro Windows 10. Il mouse si controlla da questa schermata dove c'è Bluetooth, stampanti e mouse. Clicco lì sopra e qui a sinistra seleziono il mouse. Bene, questa è la schermata delle opzioni del mouse. Da qui non si può cambiare nulla per quanto riguarda l'aspetto del puntatore stesso, però vado in opzioni aggiuntive per il mouse. Ci clicco sopra ed ecco qui che c'è una nuova finestra con più opzioni e per regolare la grafica e quindi l'immagine del puntatore c'è la scheda puntatori che vado a premere. Bene, a questo punto questi che vedo sono i miei puntatori. Ora li faccio scorrere, ma vediamo di capire bene la situazione. Quindi quando io ho un puntatore del mouse non ho solo questa freccia che adesso sto muovendo perché questo è il puntatore standard. Quindi la selezione normale, il puntatore che c'è di solito è questa. Però poi il computer entra in varie fasi, in quella dove mi dice di attendere, in quella dove mi dice guarda che quello è un link internet, quello è un bottone e altre cose. Per cui per ognuna di queste fasi c'è un puntatore diverso. Quindi tutte queste immagini qui sono immagini relative al puntatore. Quindi il nostro puntatore del mouse in realtà ha un insieme di aspetti che presenta di volta in volta. Ad esempio se io vado sul bordo di una finestra la facciamo così, questa la chiudiamo e rimaniamo solo con questa. Se io vado sul bordo di una finestra apriamo Esplora File apro la mia finestra Esplora File la rimpicciolisco un po'. Se io vado su un bordo della finestra vado di qua che forse si vede meglio eccomi qua il mio puntatore cambia da freccia a doppia freccia che mi dice tu questa finestra la puoi ingrandire o rimpicciolire. Questo perché è previsto da qua. Eccolo qua, ridimensionamento orizzontale. Quindi questa combinazione di puntatori questa combinazione di immagini entra in funzione ed è in funzione attualmente sul mio computer quindi il computer di volta in volta mi presenta le varie immagini. Io nel caso specifico oggi ho personalizzato ho scelto che l'immagine standard quella normale sia questa nuova immagine a freccia bianca e rossa. Bene. Ma e quindi se tu provi adesso ad andare in questo momento sul tuo computer la voce personalizzato non ce l'hai perché l'ho creata io appositamente sul mio computer. Vediamo allora che cosa c'è di già pronto. Quindi prendiamo il giro lungo vabbè e dico che cosa posso fare. Se io vado su questo menu vedo che ci sono già installate già preparate nel mio Windows in questo caso Windows 10 una serie di combinazioni per cui ad esempio posso vedere volevo vedere il Windows standard eccolo qua Windows standard grandi faccio clic lì sopra questa è la serie dei pulsanti se dico applica ecco che adesso la mia freccia ha cambiato aspetto perché ha preso il funzionamento ha preso l'aspetto di quello standard quello che generalmente c'è impostato nel nostro computer anche se questi è grandi quindi è un po' più grande del solito e la freccia normale diventa così e qui via via ci sono tutti gli altri simboli sui quali io potrei interagire e cambiare. Ma se vado ancora posso vedere allora quello che avevo prima io era Windows nero molto grandi perché e dico applica eccolo qua perché presumevo che fosse più visibile per voi da casa una volta che guardate la diretta e quindi ho sempre usato questo mi piacerebbe però cambiare cioè queste cose qui che abbiamo a disposizione sono poche vorrei avere un puntatore diverso io nella prima lezione del corso dico sempre che tutto è personalizzabile e quindi lo puoi lo puoi scegliere come vuoi però qua non è che abbia io tante scelte allora il primo passo è quello di personalizzare il nostro puntatore quindi io voglio scaricare da internet perché poi è lì che andiamo gratuitamente una combinazione di puntatori da poter applicare al mio computer e quindi partiamo per questa per questa prima opzione apro il mio browser internet e lo scopo è quello di andare a cercare un sito internet che mi dia queste personalizzazioni senza darmi programmi aggiuntivi virus o quant'altro quindi un posto sicuro che mi faccia scaricare gratuitamente delle grafiche per il mio mouse e uno di questi siti ce ne sono tanti in realtà ne ho provato uno funzionava già subito bene quindi vi faccio vedere direttamente quello si chiama deviantart deviantart dico cerca quindi premo invio per cercare ed eccolo qua il primo nel mio caso deviantart.com ci clicco sopra e scopro che qua dentro ora che ci arrivo eccolo qua è un sito di arte di grafica applicabile al computer e quindi ci sono tante tanti disegni tanti simboli tante cose che possono essere usati per personalizzare comunque anche il il computer vedete che qualcuno li mette in questo in questo caso e intanto saluto Antonio da Lisbona e mi fa piacere sapere che ci sei anche tu da molto da molto lontano da lontano insomma grazie e benvenuto ok a me serve un cursore allora vado qui e scrivo all'inglese cursor perfetto ho il telefono che suona eccolo qua lo mettiamo in silenzio benissimo e avendo chiesto cursor l'ho chiesto all'inglese mi sono apparsi queste cose qua strane questi sono cursori per il nostro computer ognuno di queste di queste voci è una raccolta di immagini per il nostro cursore per il nostro puntatore ce ne sono di mille tipi dal romantico al guerriero al colorato e via dicendo ce ne sono un sacco a quello classico allora proviamo a prenderne uno prendo questo che ho già in realtà già provato shadow si chiama mi è piaciuto ci clicco sopra vengo mandato da questo su questo su questa combinazione di cursori qui ci sono anche delle delle annotazioni relative a ciò e lo voglio scaricare scelgo download attenzione non questo start download che è un annuncio pubblicitario me ne accorgo da qui e quindi mi farà scaricare altre cose in questo caso non richieste ma qui download faccio click e adesso il mio computer scarica qui in basso in piccolino la combinazione di questi puntatori la serie grafica di questi puntatori fatto è arrivato è un file compresso che è arrivato nel mio computer è proprio veloce e molto molto leggero perché i puntatori sono piccoli guardando qua sulla destra ad esempio potrebbe esserci questo che potrebbe essere simpatico provo a cliccarci sopra è uscito casualmente questo che si chiama sonar perché sembra molto molto visibile proviamo a prendere anche questo così ne facciamo due in un colpo solo faccio il download e anche questo arriverà ecco che si va ad aggiungere ad aggiungere lì sotto devo dire che nelle prove che ho fatto ne ho scaricati ne ho scaricati vari e mi sono e mi sono piaciuti ok quindi al momento allora presumiamo che qui posso venire tutte le volte che voglio a scaricarne un'infinità e il procedimento è sempre quello per cui ti basta provare e vedere quello che trovi adesso vediamo come usarli quindi chiudo internet dico vabbè basta internet vado in esplora file per vedere dove sono andati a finire questi cursori saranno andati in download solitamente nel nostro computer vanno in download eccomi qua entro in download e trovo questi due file compressi questi due file qui sono uno è sonar e l'altro è shadow sono le combinazioni dei cursori per usarli li devo decomprimere sono arrivati compressi impacchettati per viaggiare più velocemente sulla linea telefonica ora per utilizzarli li devo decomprimere faccio tasto destro e dico estrai i file abbiamo parlato della decompressione dei file in un video appogito e quindi tralasciamo questa parte dico semplicemente ok e quello che succede è che ottengo una cartella shadow cursor eccola qua che ha lo stesso identico nome con i file non compressi ed eccomi ed eccoli qua pronto facciamo la stessa decompressione anche per il sonar così ce li abbiamo già allora tasto destro estrai i file ok e di nuovo il mio computer lavora ed eccolo qua quindi questi due file qui al momento non mi servono più perché io adesso ho già le versioni decompresse quindi questi potrei anche buttarli nel cestino che non mi interessano più lo faccio in questo caso anche se generalmente allora li lascio andare nel cestino eccoli qui quindi lavoro su questi due anche se generalmente se è una cosa utile che usi nel tuo computer magari la tieni in archivio non si sa mai che tu debba formattarlo e quindi non riesca più a trovare questa cosa va bene partiamo dal dal sonar che per me è nuovo e quindi voglio vederlo ci clicco sopra due volte vediamo cosa c'è dentro questa è un'immagine né più né meno di un'immagine c'è scritto file jpg nella descrizione quindi se ci clicco sopra è una foto che serve solo per farmi vedere tra l'altro anche piccola vediamo se giro la rotella vabbè questa è è un'immagine d'accordo la chiudo i veri puntatori sono qua dentro vado su sonar cliccandoci sopra due volte ed ecco qua i miei puntatori per cui queste sono la serie di immaginine che servono a creare questa questa lista di puntatori che il computer deve usare a seconda delle varie situazioni come fare a caricarle come fare ad avere queste immagini di là nell'elenco cioè qua allora dov'è che eravamo qua il mouse qui io avrei bisogno che ci fosse nell'elenco questa questa combinazione sonar ad esempio come faccio vado sul mio sonar questo tasto destro e lo riconosco torno faccio un passo indietro lo riconosco allora rimettiamo posto ecco lo riconosco non tanto perché si chiama sonar vabbè il sonar d'accordo ma per la grafica che ha tutti gli altri hanno un simbolino che poi è il puntatore che verrà applicato questo ha l'ingranaggio quindi questo ingranaggio e quando ci vado sopra col mouse e lo lascio lì viene fuori scritto informazioni di installazione quella è l'icona giusta che serve per dire al computer caricami queste immagini puntatori questa compilation di puntatori da poter usare clicco sul tasto destro e scelgo installa mi viene chiesto ma sei sicuro vuoi quindi viene dato un avviso di sicurezza sì d'accordo quindi io dico apri non so se voi avete visto questo avviso o no ecco che mi viene chiesto nuovamente questo sicuramente non lo vedete mi chiede vuoi consentire a questa app di apportare modifica al dispositivo sì tranquillo computer perché le ho presi da un posto dove va bene non è successo niente cioè si è visto qualcosa ma fisicamente non vedo niente perché non vedo niente perché adesso devo lavorare in questa finestra qui quindi questa è quella di modifica dei puntatori in teoria cliccando qui adesso dovrei trovare nella lista dei puntatori disponibili anche sonar se questa finestra si è aggiornata se non si è aggiornata automaticamente dovrò chiuderla e riaprirla per avere la versione aggiornata proviamo a vedere se si è aggiornata clicco sopra mi guardo attorno noi cerchiamo sonar e in questo momento sonar non mi sembra di vederlo quindi dico vabbè senti ok quindi chiudiamo la finestra chiudiamo tutto e ripartiamo vado a vedere se il mouse è possibile personalizzarlo quindi vado nel mio menu di avvio vado in impostazioni vado in dispositivi tra cui dove c'è il mouse clicco scelgo mouse vado in opzioni aggiuntive per il mouse quindi ripercorro tutta la strada per arrivare a quella finestra e scelgo puntatori ora richiedo il menu di avvio e voglio vedere se c'è questo sonar ed eccolo qua quindi sonar ho dovuto lo trovo in ordine alfabetico ho dovuto chiudere tutto e riaprire per poter per poterlo utilizzare clicco su sonar ed ecco che qui io ottengo la combinazione dei puntatori questa è la grafica di questo sonar di questi puntatori dico applica mi dice ma sei sicuro di voler modificare tutto quanto si computer fai ed ecco qua che il mio puntatore è cambiato non è che sia particolarmente visibile ma ha un aspetto grafico particolare diverso dal solito vediamo se riesco a vedere le mie finestre eccolo qua questa è la freccina niente niente di particolare ma ma ha fatto proviamo ancora vado in esplora file ci sono già vado in download e voglio provare stavolta shadow allora un consiglio dato che io magari decido di tenere questa combinazione di cursori la shadow perché già l'ho vista e potrebbe piacermi non la voglio mettere in non la voglio mettere o meglio lasciare in download perché in download spesso cancello tutto quanto e quindi le cose scompaiono ma se io cancello questa cartella che contiene la combinazione dei cursori che sto usando poi il mio computer va in difficoltà perché non riesce più a trovare le immagini quindi è meglio se io la prendo e la metto in documenti perché documenti è il mio archivio dove ci sono le cose che uso sempre quindi vado in documenti e vado a cercare il mio shadow eccolo qui shadow cursor by eccetera lo apro qui c'è l'immagine di prova e qui c'è shadow ok e ci sono di nuovo tutte le piccole immagini qua dove c'è shadow e c'è l'ingranaggio serve per installarlo quindi tasto destro installa per cui una ripetizione di quello che abbiamo fatto prima mi dice ma sei sicuro sì fammelo fallo pure ancora ma sei proprio certo vuoi consentire questa app sì computer consento ecco che è stata fatta l'installazione bene chiudo tutto vado nel mio menu di avvio vado nelle impostazioni vado in dispositivi mouse opzioni aggiuntive per il mouse in puntatori ora dovrei trovare se faccio girare la mia freccia dovrei trovare shadow eccolo lì vicino a sonar clicco su shadow e do ok dico di sì e ho di nuovo la mia la mia grafica diversa bene e quindi questo è quanto la prima cosa che mi dico è vabbè senti sì sono belle ma non è che sia tutto questo visibile il mio scopo è quello di averla più visibile questa non lo è un granché però cosa posso fare posso fare questo allora vado di nuovo in opzioni aggiuntive per il puntatore in puntatore io prima ho guardato tutte le varie freccine di shadow ad esempio dico ma guarda questa qua questa qua con il rosso sotto come si vede come si vede bene oppure questa con l'azzurrino sotto come si vede bene ma restiamo concentrati su quella rossa se questa rossa che dice viene usata quando non è disponibile fosse quella standard quella normale si vedrebbe si vedrebbe molto bene allora facciamo la modifica quindi cambiamo questa combinazione a nostro favore cioè in un modo che a me piaccia piaccia di più bene allora vado sulla selezione normale quindi dico la freccia normale deve essere cambiata e vado come faccio a cambiarla vado qui su sfoglia perché sfoglia significa vai a cercare una freccia diversa allora visto che questa non ti piace cercane un'altra diversa ok dove devo andarla a cercare in documenti quindi vado in questo pc documenti documenti shadow vado lì perché le ho messe lì e quindi sono dentro lì apro shadow e eccola qui la vedo perché c'è il disegnino quella rossa aero questa ci clicco sopra e dico apri bene tra l'altro questa è anche animata cioè il coso rosso si gira gira attorno quindi si vede proprio bene per cui dico ho questa combinazione qui adesso mi sta bene dico applica sì sono d'accordo ed ecco qui che la mia freccia del mouse adesso ha un aspetto diverso se io dico ok e chiudo tutto e dico ok oh questa è una freccia del mouse che si vede bene al nostro scopo quindi per fare i tutorial su internet potrebbe potrebbe non essere male perché lampeggia anche addirittura per cui si vede bene magari scrivetemi poi nei commenti quale preferite se vi piace oppure no e quindi io adesso la posso usare per fare tutto quindi ho raggiunto il mio scopo ho cambiato il mio mouse e ho dato un aspetto che vedo meglio perché magari ho difficoltà a vedere da vicino comunque ok insomma mi piace di più spesso lo si fa anche per un discorso di grafica se siamo ragazzini lo facciamo perché mettiamo le immagini del cartone che ci piace di più o quello che è bene ok io ho trafficato un po' nel mio computer ma se io volessi rimettere tutto a posto dico ma no senti ok ho fatto bene ma mi piace tenere tutto bello in ordine tiriamo via queste modifiche che abbiamo fatto siamo capaci di tornare indietro da questa situazione certo siamo capaci allora chiudo con la X andiamo là nelle impostazioni del mouse impostazioni ma come si vede bene questa andiamo su dispositivi andiamo su mouse andiamo su opzioni aggiuntive per il mouse puntatori quindi torno torno qui allora innanzitutto da shadow vado a windows nero molto grande che era quella windows nero molto grande che era quella che avevo prima eccola lì dico applica così la mia shadow è stata tolta la tolgo perché siccome adesso la cancello il computer non saprebbe che cosa utilizzare altrimenti bene e allora voglio tirarla via come si fa si seleziona da qui si va su shadow e si dice elimina sì voglio eliminare e questa combinazione viene cestinata ora non si vede ma è sparita qui c'è più c'è nessuna vado anche su sonar e questa proprio mi interessava anche poco dico elimino mentre shadow non è per niente male dico sì elimino finito mi basta dire ok e io ho pulito ho riportato il mio computer normale come prima ok allora e quindi questo è un discorso non male mi piacerebbe però avere un mouse personalizzato senti lo voglio disegnare io perché non posso disegnarmi io la freccia del mouse che preferisco perché così ha un senso cioè la faccio per un certo motivo ad esempio quella che avevo all'inizio era bianca rossa con l'alone giallo quindi si vedeva bene e mi piaceva l'ho disegnata io mi piaceva bene come posso fare a disegnarla io posso usare il mio programma di fotoritocco il mio Gimp qui in alto sulla sulla i ci sono i video che riportano all'uso di Gimp quindi diamo per scontato di saperlo usare e usiamolo se non lo sai usare qua sopra trovi i video che ti servono per imparare a usarlo quindi Gimp è un programma di fotoritocco ok che io ho già preparato aperto perché di solito ci impiega un po' ad aprirsi ed eccolo qui quindi voglio creare una freccia una freccia mia personalizzata allora la prima cosa che mi capita di pensare è che non ho voglia di disegnare la freccia la freccia mi sta bene voglio solo metterla rossa voglio solo mettergli l'alone ma non sono così bravo a disegnare da poterla da poterla fare io non ho voglia di spendere quel tempo lì vorrei che venisse disegnata molto più velocemente come si fa? si va sempre su internet qui mi avete visto farlo altre volte vado su internet e vado su un sito che mi permette di scaricare immagini libere da diritti d'autore gratuitamente vado qui è pixabay www.pix ecco che appena lo scrivo il mio computer lo riconosce perché ci vengo pixabay.com premo invio raggiungo questo sito eccolo qua immagini gratis di alta qualità perfetto scrivo quello che voglio e scrivo puntatore puntatore vediamo se capisce che voglio una freccia del mouse premo su cerca ne saltano fuori mille qualcuno di questo sarà una freccia del mouse facciamo così diciamo senti non darmi tutte le immagini non darmi tutte le immagini dammi solo quelle vettoriali in questo caso i disegni e vediamo se c'è qualcosa che che può fare al caso nostro eccola qua questa freccia qua mi piace questa immagine qui ora ci clicco sopra in realtà è composta da più di una questa e questa sono insieme ok la scarico download gratuito download qui l'immagine viene scaricata è molto piccola e veloce fatto immagine scaricata il mio internet lo posso chiudere e lavoro su gimp quindi da gimp adesso acquisisco prendo dentro questa immagine e vado a modificarla vado in file apri dice dov'è questa immagine che hai scaricato l'ho messa in daniele download arriva lì ed è questa ne avevo due perché l'avevo già scaricata in precedenza chiaramente per fare per fare la mia freccia personalizzata la apro ed eccola qua questa è la mia immagine di tutta questa immagine qui a me non interessa tutto mi interessa solo la freccia la parte bianca e quindi la voglio estrapolare la seleziono con la bacchetta magica così viene selezionato solo il colore bianco ecco la mia freccina viene selezionata poi vado su modifica copia perché voglio estrapolare il bianco e adesso la incollo in un'immagine nuova faccio file nuovo opzioni avanzate il fondo trasparente colore di fondo trasparenza e ok ed ecco qua la mia immagine nuova l'area per la mia immagine nuova modifica incolla ed ecco la mia freccia quindi ho la mia freccia faccio allora prendo questo qui per fissarla ci clicco dentro volevo metterla questa qui deve unirsi allo sfondo proviamo a premere invio non mi ricordo mai come si fa per fissarla proviamo a spostarla selezione niente non c'è dai computer fissami l'immagine provo a selezionare qualcosa d'altro ok mi è bastato cliccare su qualcosa cosa d'altro ho fatto questa è la mia immagine pronta da poter usare bene adesso allora le voglio fare il bordo rosso quindi torno a selezionarla bacchetta magica seleziona la mia immagine vado in seleziona perché voglio modificare questa selezione e c'è la voce proprio bordo come vuoi grande il bordo 5 punti il 5 è già scritto perché si ricorda di quando l'ho fatto poco fa se non ci fosse basta cambiarlo dico ok ed ecco che è stato creato un bordo una selezione attorno alla mia freccina prendo il colore anziché nero prendo un rosso ok prendo un pennello un pennello bello grande e quindi lo vado a prendere e ingrandire un po' così dipingo di rosso la mia freccia perfetto eccola qua mi piace anche di più di quella di prima ok e poi dico selezione niente quindi la freccia c'è ci voglio mettere l'alone giallo sotto mi serve un nuovo livello perché l'alone giallo deve essere messo sotto quindi dovrò avere due livelli di immagine e questo dovrà essere quello che ha l'alone giallo per cui da qui dico nuovo livello ok e lo trascino sotto queste cose qui le spiego velocemente perché comunque nei video la sopra di Gimp ci sono per cui diciamo è facile da fare una volta che eventualmente li vedi allora sto lavorando sul livello sotto quindi sotto alla freccia voglio fare un cerchio prendo il cerchio prendo tengo premuto il tasto shift le maiuscole per disegnare un cerchio bello tondo ok lo sposto più o meno in mezzo ok e questo cerchio adesso lo voglio riempire di giallo quindi scelgo il giallo giallo ok voglio che sia fisso o che sia un po' a trasparenza lo voglio che sia un po' a trasparenza allora prendo lo strumento riempimento questo che fa le sfumature e gli dico andiamo verso il trasparente quindi il giallo qui con i quadratini che significa trasparente ok e adesso da qua dal centro prendo e trascino e traccio una riga tenendo premuta lascio andare e ottengo uno sfondo giallo però è trasparente solo da una parte allora ctrl z annullo riproviamo sono andato troppo avanti forse vediamo ok è trasparente solo da una parte perché devo dirgli che la trasparenza deve essere qui non lineare cioè non deve essere una sfumatura lineare ma circolare si chiama radiale eccola qui radiale per cui da un punto centrale si va verso un punto trasparente eccolo qua per cui la mia immagine dentro è gialla piena e poi piano piano va a degradare in trasparente fino a scomparire bene ora togliamo la selezione seleziona niente questa immagine la voglio salvare però prima di salvarla allora facciamo così la selezione mi serviva quindi la faccio ctrl z per riaverla ecco io ho la mia selezione perché mi serviva la selezione perché questa immagine è grande cioè non è che posso avere un cursore che si muove grande così deve essere un'immagine piccola per cui vado su immagine ritaglia alla selezione quindi tutto quello che sta fuori della selezione verrà cancellato ritaglia alla selezione ecco qua un'immagine piccolina quadrata perché non può essere tonda ma non più grande della selezione per cui adesso ho la mia immagine giusta quindi faccio seleziona niente e ci sono ora la voglio salvare perché alla fine ho creato l'immagine e la voglio salvare vado su file esporta in questo caso e deve essere una png quindi se non la nel mio caso c'è già ma se non ci fosse devo cliccare qua sotto e scegliere tra tutti questi elenchi una che si chiama png perché è l'unico formato o è comunque un formato che gestisce la trasparenza eccolo qua png e là sopra ci scrivo il nome lo chiamo cursore live ok e lo metto in immagini quindi in picture che sta per immagini cursore live in immagini faccio esporta esporta e ho creato l'immagine chiudo tutto chiudo queste modifiche qua le butto via questa la chiudo con la x perché non mi serve più abbandono le modifiche questo lo rimpicciolisco potrei chiudere ma metti che dopo ci tocca ci tocchi riutilizzarlo ce l'abbiamo già pronto vediamo dove è andata a finire vado in esplora file vado in immagini e tra le tante immagini ci sarà eccolo qua cursore live questo qui che vado a cliccare l'altro è quello che avevo creato perfetto questo è il mio cursorino guarda che bello adesso l'ideale sarebbe dire caro computer questa immagine tu la usi come cursore standard e allora mi verrebbe da pensare questo vado in menu vado in impostazioni vado in dispositivi mouse opzioni aggiuntive per il mouse puntatori prendo il mio normale e gli dico beh intanto scegliamo la combinazione facciamo era windows nero molto grande perché comunque eccolo qua e dico applica così intanto ho la freccia più grande dico quella normale la voglio bianca e col bordino colorato vado in sfoglia e vado in immagini a cercarla vediamo un po' accesso rapido immagini e vediamo che non c'è questa che c'è che è un po' diversa io la riconosco perché l'ho fatto è l'altra quella che ho usato in precedenza ma non c'è la cursori live vedete che questa si chiama cursor 4 si dovrebbe chiamare cursore live come mai non c'è perché non funziona così non basta prendere un'immagine qualsiasi e dirgli questa immagine trasforma in un cursore perché non funziona deve essere un'immagine particolare deve essere un cursore come faccio allora a trasformare la mia immagine in un cursore ci affidiamo a internet vado sul browser internet e cerco un sito che faccia questo lavoro gratis si chiama cursor cc cursor trattino cc premo invio google me lo trova eccolo qua cursor editor www.cursor.cc e clicco su questo cursor editor ed eccolo qua quindi qua adesso mi dicono senti amico qui tu puoi disegnare il cursore che vuoi quindi ci sono tutti gli strumenti di disegno ok e noi i colori e dopo te lo trasformiamo in un cursore ah dico ah caspita a saperlo prima magari venivo qui io l'ho già disegnato l'ho disegnato con jimp che per me era più comodo posso usare quello certo possiamo importare import image l'immagine creata da noi quindi ho cliccato import image vado a scegliere l'immagine e allora vado in immagini e vado a vedere dov'è allora cursor live si chiamava cursore live eccola qua la seleziono dico apri dico upload cioè te la mando abbiamo quasi finito eccolo qua e questo è il mio cursore trasformato nei quadratini come se io l'avessi disegnato ora solo che io l'ho disegnato a casa mia e e te l'ho mandato una cosa fondamentale il cursore è un'immagine ma un punto di quell'immagine un millimetro di quell'immagine è quello che deve puntare quello che deve essere posizionato per fare il click quindi devo dire al computer a questo programma qual è il punto di click perché lui è un'immagine tonda non è neanche a punta perché è vero che c'è la freccia a punta ma lui non è in grado di capire che quella lì è la punta della freccia e che voglio puntare da lì devo essere io a dirgli cos'è che indica il puntamento con questo strumento qua questo hotspot è dove il mouse clic qui dice all'inglese dove il mouse fa clic ci clicco sopra benissimo si è acceso il baffettino e adesso io devo andare a posizionarmi sulla punta della freccia questo è fondamentale altrimenti il mouse funziona male cioè funziona ma non è preciso bene ok questa è la mia punta quindi vedete che questo simbolino qui con il più è stato posizionato esattamente sulla punta del mouse quindi quello sarà il puntatore dove devo posizionare quel simbolo lì per cliccare faccio scorrere sotto c'è una prova del mio mouse posso vedere un po' com'è non male mi piace e faccio il download download del cursore lo scarico si chiamerà cursor.cur fatto già scaricato perché è piccolissimo questa butto via tutto vado in esplora file vado in download eccolo lì il mio cursore che abbiamo creato noi gli cambio nome tasto destro rinomina e lo chiamo cursore live ok così lo possiamo usare non lo lascio in download lo porto in immagini perché qui spesso faccio pulizia e non vorrei cancellarlo quindi trascino in immagini fatto ora è di là chiudo tutto posso finalmente andare qui in windows quindi nelle proprietà del mouse nel windows nero grande che è la combinazione che mi piace e sfogliare per selezionare da immagini allora accesso rapido immagini il cursore live ok e dico apri lo proviamo dicendogli applica ed ecco qua che ho il mio cursore nuovo ora però e ho finito questa mi sta bene però questa combinazione non voglio salvarla così com'è perché rischierei di pasticciare quella standard di windows perché quella standard di windows quella originale sarebbe nera allora faccio salva con nome e la chiamo windows per live ok e quindi questa è una combinazione personalizzata dico ok e ho finito questo è il mio cursore lo voglio provare sul fino sulla punta quindi apro esplora file rimpicciolisco un po' voglio vedere se la punta risponde bene sì direi direi di sì perché appena arrivo con la punta ok quindi è perfetto mi vedrete adesso utilizzare questo questo puntatore che abbiamo creato insieme ma vado allo schermo grande perché ormai abbiamo finito vediamo voglio vedermi prima ok magari nei commenti scrivetemi quale sarebbe il vostro puntatore preferito se ne fate uno voi potreste anche mandarmelo via email allegarlo ad un email quel file lì e io poi magari lo uso in una live non deve essere per forza una freccia nelle prove avevo fatto anche come puntatore il simbolino della maggiolina quello che appare vicino ai video si può fare un po' tutto quello che si vuole se c'è una punta ha un suo perché perché è quella che dobbiamo posizionare per fare le cose mi auguro che il video vi sia piaciuto in quel caso mettete un mi piace commentatelo ho già detto iscrivetevi al canale perché per noi è molto importante è gratis e venite avvisati quando c'è qualche novità ci vediamo presto sul canale ciao questo devo premere ciao